Adesso è giunta l'ora di farsi sentire. I tavoli tecnici, gli incontri e soprattutto gli impegni al momento non mantenuti hanno indotto i rappresentanti dei comitati del porto rifugio di Gela a scendere in campo. La marineria, hanno detto, è al collasso e sta morendo tra l'indifferenza della politica. Il comitato del porto non è solo il comitato del porto di singole persone, ma è il comitato della città dove praticamente tutti possono intervenire e devono intervenire per far sentire la nostra voce perché dobbiamo far capire a questi signori politici che il porto di Gela è della città, non è solo un bacino di voti ma è un porto che serve alla città. Quindi la riunione ha avuto un ottimo risultato per noi. Speriamo che adesso faremo sentire veramente la nostra voce perché siamo per indire anche degli scioperi in oltranza e chiuderemo il porto e poi vedremo che cosa fare, ma qualcosa sicuramente faremo. Ci faremo sentire sicuramente e seriamente. Se per 40 anni siamo ridotti a questo punto, credo che comunque la politica abbia maggiori responsabilità perché non ha rappresentato le esigenze dei lavoratori, dei cittadini, tutto ciò che opera lì, la portualità di Gela. Quindi chiamare politici e non chiamare nessuno a questo punto. Per questo non abbiamo voluto la loro presenza. Anzi, credo che si sarebbe perso altro tempo. Ci siamo resi conto che la cittadinanza è con noi, i cittadini sono con noi, i cittadini vogliono fortemente questo porto a Gela. Quindi assieme a loro ci stiamo organizzando per poter dare luce finalmente a questo porto, poter portare a conoscenza tutto quello che succede e tutto quello che è successo all'interno di questo porto per gli anni passati e gli anni che si sono stati. Spero a più presto di poter dare dati dove poterci riunire per cercare di fare questa protesta tutti assieme.